Buonasera, siamo sul 98, Robicianne Teleclusone in diretta per parlare di Atalanta che arriva da 2KO, quello con l'Inter è la prima della classe quindi era anche salvo un andamento un po' a volte in alcuni episodi che non è piaciuto tantissimo però la superiorità dell'Inter non si discute col Bologna, purtroppo una partita è iniziata bene poi invece sono bastati 3 minuti per cambiare radicalmente e dare i 3 punti che li ha confermati dopo quelli dell'andata al Bologna un po' la bestia nera, se facciamo la differenza 5 punti in più del Bologna sono 6 nello scontro diretto quindi la differenza tra Bologna e Atalanta è quella, cioè Bologna che si conferma il quarto posto Atalanta che comunque è anche già a Lisbona per la partita di domani 18.45 di Europa League contro lo Sporting e quindi riparliamo con un saluto Guido Marchesi, Nicola Radici e poi abbiamo in collegamento Gigi Riva e Davide Ferrario dovemmo vederli, ecco lì Gigi Riva sulla destra Buonasera e Davide Ferrario alla sinistra cominciando subito da Davide ti chiedo ti ha dato più fastidio il K.O. con l'Inter o quello con il Bologna? direi quello con il Bologna come a tutti perché la concorrente diretta, l'Inter ci poteva stare di perdere anche se poi ci sono quegli episodi a cominciare dal gol annullato all'inizio però va bene, ci stava. Bologna ha fatto venire in mente, se ci avete pensato anche voi quella partita di qualche anno fa finita a nostro favore che è stata Napoli-Atalanta in cui nel primo tempo c'era stato il gol del Napoli e quel famoso salvataggio di Masiello per un centimetro sulla linea di porta e quella partita lì poi finì 2-1 per noi ed è avuto un po' lo stessondamento perché sembrava una squadra che per 55-60 minuti dominava l'altra avrebbe potuto essere in vantaggio di 2 gol almeno e all'improvviso si stacca la luce e si ribalta tutto e mi ricordo Gomez, ricordate quella cosa che disse dopo il pareggio che fosse di Castagni dice dai dai che la vinciamo è davvero un elemento credo proprio di mentalità, proprio di spirito che si è sentito sul campo, il Bologna l'ha avuto noi non ce l'abbiamo avuto, domodiamoci perché e questo alla fine credo più della sconfitta, ci sono ancora 11 partite è il vero punto di domanda c'è una sorta di qualcosa lì dentro in un'Atalanta che per certe volte è meravigliosa che ancora invece resta un po' di misterioso per cui si aprono questi buchi e speriamo che domani non sia la conferma di questo a Lisbona Su questo qualcosa di misterioso dopo chiedo appunto a Gigi Riva, Nicola Radici hai avuto quali sensazioni dopo questo cambiamento anche tra primo e secondo tempo oppure merito più del Bologna oppure l'Atalanta che si è un po' smarrita in quei momenti? Una partita dove tutto sommato all'inizio ha fatto meglio l'Atalanta poi sulla parte finale ha fatto un po' meglio il Bologna due buone squadre che hanno giocato a viso aperto una buona partita poteva anche starci il pari, non sarebbe stato uno scandalo il Bologna ha fatto qualcosina in più nella fase finale è un momento dove c'è molta positività per cui appena hanno l'episodio che li ha messi in gara come il pareggio magari è proprio quel momento positivo dove riesce anche ad andare a vincere la partita però non ho visto una brutta Atalanta una partita dove un pari anche ci poteva stare non sarebbe stato scandaloso dove quello che ho notato è che secondo me potrebbe alla lunga incidere magari in negativo poche alternative davanti ecco, se tu pensi di reggerti a quei livelli lì stare nelle prime 4-5 in Italia solo con l'Ukman non è facile ecco questo vedo più che quello in questo momento che mi preoccupa più che il momento in sé, due sconfitte ci stanno venivano da un momento di tante vittorie anche ecco una lì persa a San Siro, poi lì persa col Bologna giocandotela magari un po' meno alla pari però tutto sommato non ho visto questo divario clamoroso però la cosa che mi preoccuperebbe in prospettiva poi anche delle tante partite che ha l'Atalanta che comunque è stata brava a tenersi in piedi per tutti gli obiettivi però adesso c'è il rovescio della medaglia che ha tante partite da fare mi è sembrato un po' tirata là davanti ecco, Gigi Riva c'è questo tu vi hai sottolineato anche che contro le squadre di pari grado o anche superiori alla fine viene fuori qualche limite insomma di questa squadra beh sì, mi sembra che i giallisti dicono che tre indizi fanno una prova noi di indizi ne abbiamo otto o nove due perse con l'Inter due perse col Bologna una persa con la Fiorentina una persa con la Lazio una persa col Torino una persa con il Napoli capisci che cominciano ad essere troppi gli indizi che ci dicono che questa squadra un certo livello non lo regge al di là del fatto che se abbiamo giocato abbiamo giocato più o meno bene per 50 minuti ma le partite durano 90 minuti come sappiamo e io credo che la cosa che fa più male tu lo sai che io sono un gasperiniano di ferro però amicus gaspero sed magica magis amica veritas io credo che stia facendo male alla squadra il fatto che Gasperini dopo le sconfitte dica sono contento io credo che dopo una sconfitta non si può essere contenti si possono sottolineare i lati positivi perché altrimenti tu dai un giustificazionismo alla squadra che in questo momento non ne ha bisogno e non sono d'accordo con quello che diceva Nicola Radici che là davanti siamo pochi là davanti siamo tantissimi in realtà perché c'è Lockman, c'è Decatellare c'è Scamacca, c'è Miracuc mi dimentico qualcuno c'è Copp Meiners che qualche volta lo usa nel tridente d'attacco credo che siamo in tanti il problema è che quei tanti che abbiamo non rendono questo è il problema forse abbiamo sbagliato qualche acquisto in certi momenti ci siamo illusi di no ma la cosa che secondo me fa paura insomma che mi fa più paura per il proseguo del campionato è il fatto che nel momento in cui questa squadra ha un episodio negativo soprattutto con le squadre di pari grado o di grado leggermente o di grado superiore si affloscia perché così è successo anche ieri è vero che al Bologna gli sta andando tutto bene ma è altrettanto vero che noi davanti alle difficoltà quest'anno facciamo fatica a reagire non dobbiamo dimenticarci che oltre alle sconfitte che abbiamo ricapitolato ci sono state altre partite cioè il pareggio con Milan è un pareggio per grazia ricevuta il pareggio di Udine è un pareggio per grazia ricevuta abbiamo fatto altre partite davvero molto incolori e io tutto questo entusiasmo sulla crescita della squadra nel corso dell'anno non l'ho visto ho visto delle bellissime partite contro le squadre di medio-bassa classifica con quelle abbiamo vinto quasi con tutte tolto il frosinone all'inizio prima partita di campionato noi siamo forti con i deboli ma deboli con i forti quest'anno per racchiudere lo slogan non è un discorso generalissimo perché con la Lazio in casa l'Atalanta ha fatto una gran partita l'unica eccezione e anche con il Milan naturalmente per il tacco di Muriel ma non solo la versione di Marchesi prima di dare la replica a Nicola vorrei dire la differenza col Bologna gli abbiamo dato 6 punti e più di una partita l'abbiamo persa per degli episodi cioè quest'Atalanta perché anche a Bologna ha giocato meglio l'Atalanta in certi episodi improvvisamente sparisce tu ricordi a Bologna calcio d'angolo Scalvini che sta davanti all'attaccante e fa go di testa tranquillo col Bologna domenica ricordiamo gli episodi carne e secchi fa un rinvio quasi come quello col Napoli e da lì esce il rigore il Bologna raddoppia con un garantivo di Ferguson però se lo trova anche lui quindi vorrei dire che quest'anno l'Atalanta specie con le grandi con quelle con cui lei dovrebbe concorrere per andare in Champions sono gli episodi che la condannano ricordiamoci a Firenze nell'andata primi 20 minuti l'Atalanta dominò la Fiorentina tranquillamente e poi prese un paio di gol per disattenzioni manca la concentrazione nei momenti più importanti forse se sei una grande gli episodi vorresti riuscire a portarli dalla tua parte fai domenica dopo un primo tempo di grandi contenuti entrano nel secondo tempo tutti si aspettano che faccia il raddoppio invece fa 20 minuti veramente in balia di un avversario che non ha giocato meglio l'Atalanta e non solo per l'ingresso di Selemacher Nicolano dice con questo discorso che gli attaccanti ci sono ma forse però non danno quella garanzia come hai sottolineato prima che dividerei le cose centrocampisti offensivi e centrovanti l'Atalanta è una squadra che ha tanti centrocampisti offensivi che si applicano che sono utili perché a Gasperini piace giocare così e li ha sempre avuti il rosa diverso è il numero 9 l'uomo d'aria il numero 9 che può essere con delle caratteristiche o dell'altro mi pare che gli altri anni un 3 con quelle caratteristiche li ha sempre avuti l'anno scorso in Osuario c'era Oilon Zapata Murier uno aveva una caratteristica con un'altra l'altra con quell'altra poi puoi giocarne uno due possono stare in panchina ti possono aiutare se perdi quest'anno su quel tipo di giocatore in questo momento mi sembra che c'è qualche problema anzi direi che l'anno scorso erano 3 più Lukman fa 4 quindi in questo momento è solo Lukman e Scamacca che è il problema che probabilmente visto anche l'investimento fatto non sta rendendo come si vorrebbe per cui io separerei il centrocampista offensivo che in un 3 4 2 1 va in quei ruoli un po' più dietro rispetto a quello che sta là davanti però spesso in certi momenti è importante quel tipo di giocatore ma riesco a cogliere l'attimo per fare mentre concordo era questo il mio concetto mentre concordo che già col Milan la squadra non ha fatto una buona partita ecco ha portato a casa un punto importante però forse è stato anche un po' fortunato in quell'occasione per cui già lì era in un momento di calo forse ecco ma chiedo appunto a Davide Ferrara che tu tra l'altro bidi a Torino ma allora siamo ancora nostalgici di Zapata possiamo considerarci tali visto che se n'è andato a Torino e adesso sembra rinato lo vedi che corre indietro avanti è un mondo d'area così ma no vabbè tanto qua è molto amato devo dire perché Zapata è Zapata lo conosciamo è un giocatore serio che da tutto anche l'ha sempre dato all'Atalanta lo sta dando qua perché come si dice è un professionista e quindi fa il suo lavoro però non so se guardo i numeri adesso non sono proprio però credo che Zapata abbia fatto 6 o 7 gol Scamacchina abbia fatto 5 io non credo che sia quella cosa lì che cambia purtroppo è andato via anche Muriel cioè è inevitabile che cambiano i giocatori e in realtà però siamo sempre lì io si vuole dire questo qualsiasi logica che stiamo cercando di tirar fuori dalla stagione dell'Atalanta è difficile da argomentare perché anche con Gigi è vero che ci sono un sacco di episodi di momenti in cui l'Atalanta sembra naufragare di fronte a una sorta di scoglio troppo grande da superare ma guarda che solamente poche settimane fa abbiamo avuto il quarto di finale con il Milan a San Siro siamo andati sotto in un minuto abbiamo pareggiato e poi abbiamo vinto Genova ricordate la storia del gol di Salvini sette minuti per aspettare lì era un momento che poteva anche spezzare le gambe a chiunque da un punto di vista mentale ed è finita esattamente al contrario allora la mia impressione è che possiamo leggere la stagione dell'Atalanta in una maniera o nell'altra seconda degli episodi che ti ricordi e semmai il problema è proprio questo non si capisce quale sia la logica dietro tutto quello che sta succedendo ci sono dei momenti meravigliosi penso ma è anche il primo tempo di Lisbona e degli altri momenti in cui ti dici cosa stanno facendo e io penso purtroppo a quel Torino-Atalanta che ho visto qua con quell'infame prestazione che è la peggiore dell'anno è un'Atalanta a due facce probabilmente in cui contano molto anche le disposizioni mentali dei giocatori e ce ne sono tanti di nuovi e sono un po' difficili forse anche da capire mentalmente Scamacca mi sembra proprio ma anche Decatelere insomma devo dire è curioso io la prima volta che l'ho visto giocare ne scrissi e lo definì Amleto perché lui davvero sembra un personaggio un po' così adesso sorride quando segna per fortuna ma è uno che non capisce mai cosa gli passa dentro la testa è capace di cose meravigliose e anche poi di totali assenze Scamacca è un altro così sembrerebbe un ira di Dio in certi momenti e in altri momenti totalmente vago non saprei cioè penso che questi discorsi qua poi si possano fare alla fine del campionato di tutta la stagione e tiriamo le somme ma adesso faccio il tifoso nel senso che di fronte all'incomprensibilità di certe cose che stanno avvenendo continuo a pensare che il giorno dopo sarà migliore di quello che c'è stato fino adesso continuo ad avere fiducia e forse il motivo è che chiedo a Gigi che siamo passati dai tenori Gomez Ilicis Zapata a Amleto e a giocatori ancora un vero leader magari in questa squadra non l'abbiamo ancora trovato è una squadra che è un buon gruppo un bel gruppo perché siamo ancora è ancora lì sesta l'altro giorno e la quarta però forse mancano quei leader che c'erano prima non c'è dubbio ma sai il problema il problema vero è che come dice giustamente Davide bisogna essere tifosi io mi sono bevuto l'amaro calice fino alla fine tutte le partite ovviamente facendo un tifo forzennato e continuerò a farlo però appunto cioè le cose che non vedi con il cuore vedi con gli occhi e con gli occhi vedo che ce ne manca sempre uno a far 31 quest'anno se io metto sulla bilancia le partite diciamo così in colori dimostrate anche dei risultati guardate quante partite abbiamo perso e quelle invece dove ci siamo entusiasmati il bilancio è fortemente negativo se devo dire una cosa positiva guardando il calendario come credo che abbiamo fatto tutti è che passato questo ciclo di ferro poi noi avremo una parte finale del campionato dove abbiamo solo due squadre da affrontare più o meno nel nostro livello che sono la Roma e il Torino peraltro entrambe in casa e tutte le altre se facciamo come all'andata facciamo filotto quindi niente è precluso se non il considerare che appunto ed è il grande punto interrogativo che si dice gli episodi il problema è che noi gli episodi sfortunati li abbiamo anche con le squadre piccole è che con le squadre piccole poi quelle non ne approfittano e quindi noi facciamo risultato e con le squadre grandi invece se fai un errore quelle ti puniscono quindi e questi episodi ci sono in tutte le partite e io credo che sia una questione mentale probabilmente anche di personalità come tu giustamente sottolineavi anche se mi sembra difficile accettare anche questa spiegazione quindi a ragione Davide quest'anno l'Atalanta è un mistero buffo o meglio non solo buffo anche un po' tragico qualche volta naturalmente parametrando sempre le parole al gioco del calcio quindi che è la più importante delle cose non importanti come diceva Mourinho credo e quindi e quindi dobbiamo dobbiamo crederci perché il calendario poi dopo la Juve si fa molto più dolce e dirci anche che non è più quel tempo dove avevamo quei tre là davanti ma è ancora il tempo dove dovremmo avere sulla carta dei calciatori che sono stati la nostra storia la nostra forza e che possono essere dei veri leader in campo Jim City è diventato un leader Deron è un leader Toloi sarà in panchina ma qualche cosa servirà anche diciamo così il giocatore che fa spogliatoio e che fa parte di quel meraviglioso gruppo di cui tutti ci siamo innamorati siamo innamorati anche di questo anche se questo ci provoca un po' di pene un po' di dolore diciamo che questo gruppo è una rosa con qualche spina Nicola tu che ne hai visti tra l'altro anche di attaccanti di valore quando eri direttore sportivo tra l'altro sono stati inzaghi ieri se non sbaglio quindi hai nei visti di grandi attaccanti e l'Atalanta si è abituato ultimamente ad averne anche che facciano un gol può essere quello o il fatto che mancano anche dei veri e propri ci sono dei buoni giocatori ma manca il campione in questo caso ma partiamo da un'analisi che comunque oggi l'Atalanta è in linea con tutti gli obiettivi questo non bisogna dimenticarlo a oggi addirittura su tre obiettivi diversi è in ballo su tutto per cui è ormai abituata a stare a quei livelli dove comunque non è facile rimanere e giustamente dico giustamente perché quando tu rimani a quei livelli 7-8 anni investi 60 milioni sugli attaccanti hai una proprietà importante come la proprietà americana o quant'altro è chiaro che da te ci si aspetta un campionato diverso e si pretende qualcosa di più però comunque l'Atalanta è in ballo con tutti gli obiettivi per cui se domenica vinceva la quarta in classifica è comunque quinta barra sesta il fatto che questo non sapevo del finale del campionato come ho sentito prima il fatto che voglio vedere anche il bicchiere mezzo pieno il fatto che tu però contro le piccole vinci sempre non è una cosa negativa perché è quella che ti ha tenuto là che ti ha fatto fare tante 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 vittorie devo dire che con le piccole l'Atalanta è infallibile se si guarda dall'ottava in giù ha fatto tanti tanti punti quando l'Atalanta gioca contro quelle squadre a medio bassa che la Silica io dentro di me ho la sensazione che vince sempre non è poco a volte magari conta più quello che magari vincere lo scontro diretto batterla la Juve poi vai a Empoli e perdi secondo me su quello non è detto che possa essere un punto debole se alla fine dell'anno avrà raggiunto l'obiettivo che è quello di entrare nella quinta sesta quarta alla fine l'obiettivo quello non credo che l'Atalanta abbia l'obiettivo di arrivare davanti al Milan all'Inter alla Juve però se riesce a entrare nel quarto al sesto posto secondo me tanto è perché ha fatto tante vittorie e fatto di vincere sempre con le piccole alla fine può essere più importante del fare una volta la super partita contro la Juventus ribadisco e magari cadere due o tre volte su dei campi dove non devi cadere questa può essere una forza sei d'accordo con io provo un certo disagio per aver fatto una campagna acquisti onerosa fantastica potremmo dire che l'Atalanta non l'aveva mai fatto e poi scoprire che tre di quelli almeno più costosi parlo di Scamacca parlo di Touré ragazzo sfortunato che ancora si è visto ma ha pagato più di 30 milioni dello stesso Bacher ha pagato di meno 10 milioni che aveva anche un passato di un certo valore e che in realtà con Gasperini sembrano non quadrare e mi viene una spontanea domanda a Nicola Radici che ha un passato come direttore tecnico perché con Gasperini cito altri episodi di giocatori del passato che poi sono spariti Chier Ibanezza lo stesso Bellanova Orsolini che abbiamo visto domenica ma quando il direttore tecnico il direttore sportivo va a prendere certi giocatori con l'allenatore ne parla o va solo su certe caratteristiche perché vorrei capire siamo andati a prendere Scamacca che è un centro avanti che è il contrario dell'idea di gioco di Gasperini Bacher Bacher è un esterno che gioca molto alto a Gasperini mi risulta che gli rinfacci il fatto che nella fase difensiva questo non c'è che deve ancora imparare dico a Nicola ma quando andavi sul mercato avevi Mondonico mi pare col mondo ti diceva prendimi questo o ti diceva prendimi uno con queste caratteristiche e ho dimenticato Boga che a Gasperini non è più piaciuto quello magari non si è rivelato sono dinamiche interne che non conosco all'Atalanta per cui sul fatto attuale darei delle risposte senza conoscere le cose forse scusa lui lo collegava anche all'uscita recente di Congerton che appunto è andato poi in Arabia sul fatto è capitato a volte non solo con Mondonico ma anche nelle altre squadre in cui si è stato che sono stato che si è forzato alla scelta sull'allenatore è vero perché gli allenatori hanno una loro visione che magari a volte è diversa dalla realtà dei fatti del mercato di quant'altro è capitato a volte che la società ha forzato la cosa e le cose sono andate bene a volte ha forzato le cose sono andate male altre volte la condivisa con l'allenatore dipende dai momenti dalle varie situazioni senza altro su quei 60 milioni di euro spesi su due calciatori che uno è infortunato da sempre e l'altro sta facendo fatica credo che lì è un po' il punto dolente perché alla fine potresti pagarlo quell'errore lì purtroppo nel calcio capita Gasperini è un allenatore che i risultati li ha sempre fatti su quello incontestabile poi su un arco al suo carattere che a volte ha dei pro e contro come tutte le cose più pro che contro perché evidentemente questo campo ha risposto che sono più pro che contro c'è da analizzare che in 7-8 anni che è qua ci sono tanti casi effettivamente di calciatori che sono venuti qui non sono riusciti ad emergere poi sono andati da altre parti e hanno fatto bene ma ci sono anche tanti casi di giocatori che al contrario hanno fatto bene con Gasperini e poi sono andati da altre parti e hanno fatto male io credo che alla fine vada guardato un po' il tutto e analizzato se sono più i vantaggi che gli svantaggi e sono ampiamente i vantaggi fino adesso della sua gestione certo ci sono dei casi di giocatori di come ha fatto a non giocare qua ma questi sono un po' i segreti del calcio che ci sono un po' da tutte le parti ecco il Gasperiniano digeriva cosa ne pensa? penso che Radice abbia detto tutto quello che avrei sottoscritto assolutamente cioè ha ragione cioè noi non dobbiamo detto tutto questo è vero che è più facile abituarsi al caviale che al pane cicoria no Gasperini si è abituato al caviale noi dobbiamo ogni tanto ricordarci da dove veniamo ed essere comunque assolutamente soddisfatti perché quanti giocatori poi Gasperini in realtà ha valorizzato cioè voglio dire ragazzi abbiamo venduto Gagliardini a 25 milioni di euro dopo che ha fatto 14 partite in Serie A se ho letto bene le statistiche credo che i calciatori che abbiamo venduto sotto la gestione Gasperini hanno fruttato 400 milioni di euro stiamo parlando di ma vi ricordate non so che fine ha fatto come si chiamava quell'esterno tutta fascia che adesso gioca in Inghilterra non Castagna forse Castagna sì sì Castagna ma ricordiamoci si era inventato Conti era un fenomeno Conti all'Atalanta cioè ha fatto diventare fenomeni dei ragazzi che poi andati via si sono rivelati più modesti quindi io sono d'accordo il bilancio di Gasperini non è positivo è più che positivo il dispiacere di quest'anno è che Mago Gasper forse ancora io dico ancora perché ho ancora delle speranze non è riuscito a plasmare fino in fondo dei giocatori che sotto la sua guida io pensavo potessero rendere di più Scamacca naturalmente su tutti su Bilal Touré dobbiamo semplicemente sospendere il giudizio perché non l'abbiamo praticamente mai visto e Decatelare è l'ambleto che diceva Davide certe volte anche il gol che ha fatto con il Milan che poi con l'Inter che poi gli hanno ad un lato è un gol bellissimo cioè lui fa quel gol e mi sembra uno di quei calciatori che io faccio sempre spesso i riferimenti con la pallacanestro che è l'altro mio sport d'elezione ci sono dei giocatori di basket che se gli entra al primo tiro poi fanno la partita da fenomeno mi sembra che Decatelare sia anche lui che se gli va bene la prima giocata fa la partita da fenomeno con l'Inter se faceva quel gol secondo me faceva una partita da fenomeno e cioè l'ha fatto quel gol e poi l'hanno annullato e e che se invece entra in campo e sbaglia le prime tre cose poi comincia a vagare per il campo ecco credo che Gasperini abbia tutta la conoscenza tutta l'esperienza eccetera eccetera per farli maturare forse ha bisogno ancora hanno ancora bisogno di un po' di tempo e forse è vero che il tifoso è sempre incontentabile e noi dovremmo sempre dirci detto tutto quello che dobbiamo dirci perché bisogna essere onesti nella valutazione di quello che stiamo vedendo ogni domenica bisogna ricordarci da dove veniamo e bisogna anche non dimenticarci che forse questo doveva essere un anno di transizione visto che la squadra è stata molto cambiata l'anno di transizione a un certo punto è sembrato un anno di consacrazione e adesso siamo nel bilico tra la transizione e la consacrazione speriamo di cadere dalla parte giusta o di vincere la Coppa Italia come si augurava oggi Gasperini nell'intervista che ha rilasciato a Lisbona volevo chiedere una battuta prima di andare in pubblicità a Davide Ferrari ho detto Gasperini oggi Scamacca deve avere meno pressione vorrei dimostrasse più gioia nel giocare visto da un regista non solo regista in campo ma anche regista non ti chiedo a che ruolo faresti fare a Scamacca però no vabbè tanto lasciami dire che volevo chiosare quello che aveva detto Gigi è vero questa cosa qua di del Cattelere ma non so se vi ricordate al terzo minuto di Atalanta Bologna domenica quel 10 cm più basso quella deviazione in corsa di Cattelere sul cross credo di Ruggeri la prima primissima azione che è passata appena sopra il palo se entrava quel gol lui sarebbe stato un gol della Madonna permettetemi l'espressione non so come sarebbe stata andata la partita a segnare subito in quella maniera e in particolare la partita di Cattelere è vero probabilmente c'è questo fatto qua sul ma sì è vero ci sono dei giocatori io sono un po' come gli attori che uno si immagina che gli attori facciano quello che gli dice il regista non è vero c'è un rapporto che da una parte professionale da una parte artistico in questo caso sarebbe diciamo così calcistico è un rapporto umano è tutto è molto complesso quello che riesci alla relazione che riesci a costruire con una prima donna chiamiamola così Scamaca sembra uno di quelli che non sa neanche lui chi è se dovessi dirlo è uno di quegli attori che possono fare io mi sto occupando scrivendo una roba per il Corriere su Marlon Brando Marlon Brando è il massimo ma Marlon Brando era uno che quando lo lasciavi fare da solo ha fatto un film come regista e ha fatto molti film litigando con i registi ma se lo lasciavi fare era un disastro nel senso che lui aveva delle idee che non funzionavano ma era un fantastico attore era un divo perché sapeva far diventare amplificare le cose che c'erano nelle sceneggiature ecco non è semplice riuscire a far funzionare le cose né con gli attori né con i calciatori credo ed è un'alchimia che per esempio con Gespellini è funzionata quanti ne ha inventati è vero tutti i discorsi che facevamo prima quanti ne ha tirati fuori alcuni sono alcuni non ci ha trovato penso anche l'ultimo Emele che poi ha fatto anche quelle dichiarazioni un po' fastidiose sul rapporto nello spogliatoio è così su tanti giocatori che c'è in una rosa con alcune le cose funzionano benissimo con alcune funzionano così così con altri con qualcuno funziona male dobbiamo tenersi credo questa roba qua e sperare che un'altra variabile che bisogna dare Gespellini ha fatto funzionare molto bene i giocatori col tempo non è stato mai quasi uno che ma tutto sommato De Ketelere è un'eccezione che è cominciato a funzionare dopo poche partite ma pensate a Goshen Satterburg tutta questa gente qua ci è voluto quasi una stagione molte volte per farli diventare quelli che sono stati bene dai andiamo in pubblicità dopo da Marlon Brando passiamo alla pubblicità ci vediamo fra qualche minuto ricordo l'antica Pergola San Lorenzo dove andremo dopo a gustare Alberto fammi salutare tutti che poi io mi devo staccare ciao a tutti faccio una proposta ciao grazie grazie una proposta di 10 secondi mettiamo Davide assieme a Gasperini in panchina e magari fa funzionare come gli attori va bene dopo glielo proponiamo grazie a tutti grazie a tutti